ok va bene ok sono le 9 penso che si può andare vi dirò un pullo cioè un ok estrazione da 30 ma siamo questo questo smadoschiamento firma di david che non è uscito il terzo snagher e per te per te per te ok inizierebbe tigerbrand mi servirebbe al punto o al quarto di rinfo step, Tiger Brand serve Tiger Brand, uscirà Calz, uscirà Snyder, non lo so, uscirà ma non lo so, uscirà, ma non lo so, infatti ci penso che mi occupa, doppi ricordi, quindi la possibilità di doppio SSR, c'è la possibilità blanda, però una possibilità blanda di doppio SSR, il Retal è Snyder, non è Snyder, quindi o è Tiger Brand o è Calz. Poi Tiger Brand o è Calz, 1 di 2, ok, Calz, da fuck, facciamo le 30 su Tiger Brand e vediamo che ne esce, perché lui vive un schieno tedeschi nel momento del mezzo veritè, chiamme i coriandoli, ok, non ci interessa, non è un giapponese, non è un asiatico, è un latino americano attaccante, consiglio, quando un parte, un parte stress, quindi prende appuntamenti nelle giornate che gli interessano e se ne sbatte lo scopones, non è una cosa, è una cosa già vissuta, una cosa già vissuta, vista, rivista, riturata e rimangiata, siccome è una cosa vista, rivista, riturata e già mangiata, mi fa una paura, porca, ok, è rimasto solo verde come colore, almeno che non sia in verde, non, ok, chapeau signori, un giro di banner, 15 Dreamable, tutto il banner a casa.